Musica Prosegue la rassegna di eventi organizzata dai mercatini di Natale in collaborazione chiaramente col Comune di Mantova e le associazioni di categoria del territorio. Oggi abbiamo una grandissima performance realizzata grazie alla collaborazione con l'associazione L'Arte dell'Assurdo. Vi ricordo che tutti gli eventi e tutti i mercatini soprattutto proseguono fino al 26 dicembre. Per rimanere aggiornati sul calendario vi invito a visitare il sito mercatinidinatalemantova.it Noi di Arte dell'Assurdo abbiamo portato Mantova a questo evento, abbiamo scelto questo evento in collaborazione con Alessandro Carbonieri perché è un evento di rilievo internazionale e di altissimo pregio artistico. Mantova a questo evento Questo progetto si chiama Piano Sky di Cardinali Group. È un progetto in cui si vede unita la musica e appunto come è stato detto l'altezza e quindi viene unita anche la magia. Quindi abbiamo questa magia della musica che flutta nell'aria. È uno spettacolo sensazionale e vedrete che vi farà emozionare. Sentirete musica pop, colonne sonore, musica commerciale e questo è quanto. È uno spettacolo sensazionale e questo è quello che fa. Grazie a tutti.